Noi siamo in grado di, a secondo ovviamente qui dipende dalla tipologia di flaconi che verranno utilizzati dall'azienda, ma diciamo da diverse decine di milioni di flaconi possono uscire dai nostri impianti in un anno. Le aziende farmaceutiche abruzzese ed in particolare l'Alfa Sigma che assedia dall'anno in provincia di Pescara sono pronte a partecipare alla campagna vaccinale anti-covid-19 attraverso il confezionamento delle dosi. La possibilità della produzione a livello nazionale e locale del vaccino, seppure nella fase ultima, cioè quella del cosiddetto fill and finish, apre un nuovo scenario nella lotta al virus e potrebbe dare una spinta decisiva alla vaccinazione di massa. Come sappiamo il vaccino per il covid è un flacone liquido, quindi stiamo lavorando con i principali produttori di vaccino per collaborare alla parte di riempimento e commercializzazione e distribuzione anche del vaccino per il covid. Noi, anche grazie, devo dire, al contributo dei finanziamenti regionali, abbiamo di recente concluso un importante investimento proprio per la realizzazione di due reparti sterili dove è possibile realizzare e produrre un quantitativo importante del fare il fill and finish, come si dice, quindi per quantitativo importanti del vaccino covid e stiamo appunto mettendo a disposizione dei produttori del vaccino questa nostra capacità in modo da poter anche noi contribuire, in questo caso quindi come Alfa Sigma ma anche come comparto abruzzese alla commercializzazione di questi prodotti in tempi, come ci stiamo vedendo, ragionalmente molto brevi. L'Abruzzo dal punto di vista della farmindustria ha delle eccellenze, è un sistema ben collaudato condensato all'interno del polo di innovazione Capitank, composto da 59 soci e che aggrega le maggiori aziende farmaceutiche della regione Abruzzo, le piccole e medie imprese, gli enti di ricerca e le università con l'obiettivo di favorire il processo di innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo. E' la volontà anche con il contributo delle autorità regionali di far crescere e sviluppare questo polo dell'innovazione farmaceutica, quindi ripeto, nella realtà abruzzese ci sono presenti degli stabilimenti di quattro importanti aziende, oltre alla mia ovviamente anche Menarini, Sanofi e Donpec, quindi che rappresentano dei primari player all'interno sicuramente del territorio nazionale, ma non solo ovviamente, anche europeo e mondiale. Quindi il farmaceutico in Abruzzo è una realtà consolidata in termini di filiera della manifattura, quindi gli stabilimenti sono tutti stabilimenti che hanno un assorbimento diretto di diverse centinaia di persone, quindi ripeto, non solo quello di Alfa Sigma, ma anche quello delle altre aziende che sono sul territorio e ovviamente generano un indotto altrettanto importante, se non di più, una parte importante del quale ovviamente si riflette sul territorio.